Allo stand di Malastrana si dimostra ma anche si racconta l'importanza della giusta spillatura che influenza la birra soprattutto in fase di degustazione. Sicuramente la spillatura è il momento finale, quello in cui viene esaltato tutto il processo di produzione dalla scelta degli ingredienti alla birrificazione, all'infustamento, all'imbottigliamento e la conservazione. È importante perché il prodotto di qualità è una cosa assodata e Malastrana, che è una giovinissima azienda che ha sempre puntato sulla qualità, quest'anno ha dei progetti veramente innovativi. Qual è il vostro focus per questa edizione? Il focus di quest'anno è la distribuzione della Original Pills nel tank. È un percorso che inizia, piano piano cominceremo a distribuire la Original Pills dal tank per avere il prodotto così come si potrebbe bere a Praga. Importante però è sempre la giusta spillatura.